Il viaggio di Agata e del suo mega zaino. Agata vive in una grande città, una città che brulica di automobili, di gente, di biciclette, di camion, di negozi, di cani. Immensi grattacieli sovrastano le strade, dritti come alberi di un bosco. Agata abita al 96esimo piano del super bellissimo palazzo della 325esima strada. Oggi è venerdì. Agata ha trovato l'ultimo pezzo del suo puzzle gigante. Ha finito di leggere l'enciclopedia della gente abbastanza famosa, ha portato i suoi dodici alberelli, ridipinto la sua stanza di rosa pallido, ricamato 21 cuscini, curato i suoi sette uccelli non troppo malati e cucinato una casseruola di croccantini per René, il suo fedele gatto. Uffa, dice Agata, oggi mi sto proprio annoiando. Cosa potrei fare? Mentre si siede sul divano, Agata trova, nascosto tra i cuscini, il catalogo della donna moderna. Oh, che cosa chic, non l'ho letto questo! Mentre sfoglia il catalogo, una pubblicità attira la sua attenzione. Non attendere oltre, affronta i tuoi sogni più folli. Con lo zaino extra large, sogni spalla, avrà il mondo a portata di mano. Un viaggio? Ma certo! Mi serve assolutamente questo zaino per partire. Sparita la noia, Agata, senza perdere un istante, ordina lo zaino extra large e compra un biglietto d'aereo per delle vacanze da sogno sulla paradisiaca isola Huawei. Tre giorni dopo, Agata riceve finalmente il suo zaino. È bellissimo! Mi raccomando, non devo dimenticare niente. Un po' di vestiti di ricambio, caldi, leggeri e impermeabili, sono indispensabili. Quello che serve per fare il bucato ogni tanto, non posso partire senza ovviamente. E ora strizzare bene perché c'entri tutto. Nessun problema. Lo zaino di Agata è talmente grande che dopo averci infilato tutta la sua roba dentro, potrebbe ancora metterci dei timpani, un pianoforte, una chitarra e qualche musicista rock in sella alla sua moto per creare un sottofondo musicale. È ora di partire! E via! Direzione aeroporto! Ma appena è uscita per strada, non riesce a districarsi nella folla. Il suo mega zaino le impedisce di muoversi e rimane incastrata la gente tutta di corsa. Non riuscirò mai ad arrivare al metro, pensa, tutta preoccupata, lasciandosi cadere a sedere per terra rannicchiata in mezzo a centinaia di gambe e di piedi. Le si avvicina un ragazzo con lo skateboard. Ciao, qualcosa non va e qualche problema, le chiede. Il mio zaino mi impedisce di muovermi nella folla e arrivare alla fermata del metro e devo prendere un aereo, gli spiega Agata. Niente panico, dice il ragazzo, arrampicati sulla mia tavola, ti ci porto io. E in un battibaleno Agata e il ragazzo fanno lo slalom nella giungla delle gambe fino alla fermata del metro. Buon viaggio, dice il ragazzo, e prendi la mia tavola. Grazie, risponde Agata. Nel metro è l'ora di punta, quando arriva il treno la gente si precipita e si stipa dentro il vagone. Anche Agata cerca di farsi un po' di posto, ma il suo sacco non riesce a passare, dà noia a tutti. Non spingere, dicono alcuni, ci stai schiacciando con il tuo megazzaino, urlano altri. Agata alla fine ritorna sul marciapiede sconfortata e guarda il metro partire senza di lei. Come faccio? Perderò l'aereo, piagnucola piano piano. Non piangere, bella bambina, dice una voce profonda alle sue spalle. Agata si volta e vede un barbone, mezzo nascosto da un elefantino sorridente. Prendi la mia bicicletta, prosegue quell'uomo. Ci ho girato tutta la Mongolia, ti potrà pure portare fino all'aeroporto. E già che ci sei, porta con te anche questo elefantino, in caso di tristezza. Lui sa delle storielle, da morire da ridere. Grazie, sorride Agata, inforcando la sua nuova bicicletta. Con l'elefanta appollaiato sul suo zaino. E via, direzione aeroporto, si dice Agata un po' rassicurata. Ma qualche pedalata dopo, la sua bicicletta perde il controllo. Agata è disperata, impigliata tra le ruote della bicicletta. Una signora si avvicina gentilmente per aiutarla. Devi andare lontano in questa situazione. Devo andare all'aeroporto. Ma con il mio mega zaino non posso entrare nel metro. E adesso la mia bicicletta si è tutta scassata. Prendi l'autobus 65, è diretto, dice la signora. E poi tieni, ecco dei dolcetti di timo, ti faranno bene, grazie. Agata deve sbrigarsi, sta facendo tardi. Si arrampica sull'autobus, attaccandosi alla scaletta posteriore, per mettersi direttamente sul tetto. Ma non fa in tempo ad arrivarci che l'autobus parte improvvisamente. Agata si aggrappa alla scala per non cadere. Improvvisamente, all'incrocio tra la 378 e la 432 strada, l'autobus curva senza avvertimenti. Agata viene catapultata come una palla di cannone. Ecco, in pieno volo planato, trascinata dal peso del suo zaino. Agata atterra sul carretto di un gelataio ambulante. Tutto bene, signorina? Non va per niente bene. Non riuscirò mai ad arrivare all'aeroporto. Guarda che ci sei quasi, forza! Aiutata dai palloncini del gelataio, Agata corre spedita, quando improvvisamente si sente tirata verso l'alto. A cortosi dell'accaduto, il guidatore della gru, che l'ha afferrata, si avvicina. Buongiorno, signorina, mi dispiace, ti ho scambiato per una grossa pietra. Io mi chiamo Robinson, e tu? Io sono Agata. Ti aiuto io, dice Robinson. Togliti lo zaino, ti porto all'aeroporto con la mia gru. Lo zaino lo portiamo con la pinza della gru. Senza perdere un istante, Agata si arrampica nella cabina di Robinson. E via, direzione aeroporto, esclama Robinson. Ma appena la pinza lo afferra, lo zaino si strappa, spargendo le centinaia di oggetti indispensabili di Agata dappertutto. Santo cielo, tutte le mie cose, grida Agata. Santo cielo, il mio aereo, sospira vedendo il suo aereo volare lontano senza di lei. È finita, niente viaggio, niente isola paradisiaca. Io ne conosco una di isola paradisiaca, dice Robinson, proprio qui vicino. Ah sì, risponde Agata sorridendo, mi ci porti? Ed ecco in che modo Agata fa delle vacanze paradisiache sull'isola di Robinson, un'isola molto particolare, proprio vicina alle stelle, senza lavatrici da fare, né scarpe da allustrare. E le sue vacanze durarono tutto l'anno. Grazie. Grazie.